In queste nostre meditazioni di questa Settimana Santa ci fa da sfondo questa, direi enigmatica, ma interessante e significativa Via Crucis. Continuiamo sull'interrogarci a quali personaggi della Passione noi possiamo appartenere. Ci siamo interrogati sui discepoli, su Giuda, su Pietro e sulla folla. E poi c'è Pilato. Quante volte ci laviamo le mani come lui? Quante volte non abbiamo il coraggio della verità? Ecco che la Settimana Santa diventa non solo un motivo di conversione personale, ma anche di un grande e sano e salutare esame di coscienza, esame della propria vita di fede e della propria vita umana. Quante volte non abbiamo il coraggio di difendere la verità, di dire la verità, di testimoniare fatti? Quante volte giriamo il volto dall'altra parte? La morte di Gesù è la testimonianza più vera della verità. Gesù, per non rinnegarci, pur di salvarci, pur di realizzare la verità dell'amore con il Padre, non si rifiuta. Non rifiuta, non rinnega quello che lui è e quello che lui aveva fatto. Rinnega quello che hai detto, gli dicono mentre è sulla croce. Rinnega il fatto che tu hai detto di essere il Messia, il figlio di Dio e ti salverai. Invece no. Gesù continua ad essere lì, il coraggio della verità. Ma questi sono i personaggi che non dovremmo essere, i discepoli, Giuda, Pietro, la folla e Pilato. Ma Monsignor Bregantini, nel suo testo, una chiesa tra gli ulivi, ci augura di essere chi? Il Cireneo, il Centurione e Maria. Il Cireneo, perché noi siamo veramente noi stessi, siamo veramente coloro che rivivono la passione di Cristo nella nostra vita quando aiutiamo a portare le croce degli altri, quando aiutiamo a portare, aiutiamo i crocifissi della nostra storia, della nostra quotidianità, ma senza attenderci nemmeno un grazie. Perché il grazie ci viene da cosa? Dice Monsignor Bregantini, il grazie viene dal dono che tu hai fatto, e il grazie arriverà. Ma poi ci invita ad essere il centurione, cioè colui che ha saputo riconoscere Gesù quando lo ha visto morire, davvero costui era figlio di Dio. Non l'hanno detto i discepoli, ma l'ha detto un pagano, un centurione, che tutti possiamo essere un centurione perché possiamo riconoscere, indipendentemente se siamo cristiani, buddisti, musulmani, italiani, europei, africani e asiatici, perché Dio non è proprietà di nessuno, che tutti possiamo riconoscere veramente quel Cristo crocifisso come il figlio di Dio. E poi Maria. Tutti possiamo essere Maria. Perché Maria, vedete, dove c'è Maria c'è sempre un dolore. Un dolore che Maria porta con chi la invoca. Un dolore che Maria prende su di sé con il figlio. Maria era sotto la croce. Maria è rimasta sotto la croce. Non è andata via. E quando di noi vorremmo, oggi, in questo momento, nelle nostre croci, nelle nostre sofferenze, nelle nostre malattie, la mamma che ci aiuta a vivere questa croce, a vivere le nostre sofferenze. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.